Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefania all'Università di Xilarouge ed oggi vorrei affrontare quello che è un tema che in parte mi interessa non solo dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista professionale. Infatti chi insegna yoga dovrebbe cercare perlomeno di non limitarsi a quella che è l'attività fisica che viene appunto passata agli allievi ma dovrebbe anche cercare di fare un lavoro su se stesso di tipo spirituale, di tipo introspettivo. Per insegnare yoga non è necessario né essere di una particolare religione e neppure convertirsi successivamente ad un culto e questo è fondamentale da sottolineare. Però almeno dal punto di vista insomma dello yoga più autentico è fondamentale invece ricercare appunto quello che è l'obiettivo finale dello yoga, cioè l'unione con quello che viene detto se, superiore che spesso viene tradotto come Dio. Per fare questo appunto ognuno può seguire la propria strada. I manuali dello yoga identificano differenti possibilità appunto quelli che sono gli otto passi della stanga yoga, quelli che possono essere sistemi di diverso tipo a seconda delle correnti che si seguono. Ma è fondamentale appunto questa diciamo primaria attività di introspezione. Io ho fatto molto di recente un ritiro spirituale, ho deciso di andare in un monastero, non vi indicherò le caratteristiche nei dettagli di questo monastero perché non sono di particolare interesse. Sappiate che però è stata diciamo una quattro giorni assolutamente strana e assolutamente rigenerante. Quindi ci sono in realtà stati diversi momenti, soprattutto all'inizio, in cui appunto ho colto quello che era il momento di crisi necessario per cogliere invece poi il meglio dall'esperienza e poi è andato tutto liscio. Allora essenzialmente appunto in questo ritiro spirituale io mi sono occupata di pregare, di meditare, leggere, isolando me stessa da quelle che potevano essere le distrazioni provenienti dalla vita di tutti i giorni. Appunto nel posto in cui sono andata non si guardava la televisione, non si ascoltava la radio, le camere per ognuno erano singole per cui non era possibile appunto interagire se non al di fuori dei micro momenti comunitari come le altre persone proprio allo scopo di riscoprire se stessi e di fare una specie di esame dei propri obiettivi, della propria coscienza e di ciò che si era raggiunto fino a quel momento. All'inizio in realtà è stato appunto molto difficile e credo che sia una cosa che accada un po' a tutti coloro che si occupano di fare dei ritiri spirituali di questo tipo, cioè proprio incentrati sulla spiritualità, quindi slegati dallo yoga, slegati dalla vacanza, quindi dal fatto che si può andare al mare, di fare le escursioni in montagna, perché esistono anche questi tipi di ritiri. quindi in tale tipo di ritiro appunto legato esclusivamente alla parte introspettiva c'è un momento appunto di crisi, quasi di rifiuto. Uno inizia a pensare di voler andare via, di voler concludere la propria esperienza quasi immediatamente, proprio perché credo che sia una reazione appunto abbastanza normale, la nostra mente tende a spingere fuori tutto ciò che potrebbe alterare l'equilibrio, comunque la quotidianità che si era creata fino a quel momento. Appunto interviene quello che si chiama Parinam, il cambiamento, però questo crea ovviamente una sofferenza iniziale nell'essere umano. L'importante appunto a questo punto è che cosa? Resistere e andare avanti. Infatti dopo il primo momento di crisi in cui ho iniziato a dire ah non posso farcela, voglio riavere appunto le mie comodità, addirittura anelare alla tecnologia è arrivato il momento appunto della crisi positiva, quindi in una meditazione, in una concentrazione profonda essenzialmente tutto si è chiarito e quindi da quel momento in poi il ritiro è stato splendido, magnifico, proprio perché ho avuto la possibilità di farmi mettere in crisi da questa esperienza e credo che indipendentemente dal proprio retaggio religioso, dalla propria cultura, dal proprio background, così come lo vogliamo chiamare, tutti dovrebbero fare un'esperienza di questo tipo. Si esce da un ritiro spirituale sicuramente diversi, se lo si affronta in maniera ovviamente consapevole e seria, quindi se non ci si lascia comunque coinvolgere da ciò che avviene all'esterno, ma se si apre è un dialogo profondo con noi stessi e se si riesce appunto a aprire non solamente ma il proprio cuore a ciò che andiamo ricercando, come lo possiamo chiamare appunto felicità, completezza e così via. Quindi credo che tutti dovrebbero fare un'esperienza del genere, non solo una volta nella vita, ma diverse volte nella vita, però almeno una volta nella vita, semplicemente per creare un punto di svolta e per iniziare veramente un vero rapporto con noi stessi e anche con la nostra spiritualità. Per me appunto questa esperienza, nonostante avessi fatto appunto altri tipi di ritiri, è stata molto molto istruttiva, molto importante e credo appunto di non essere più la persona che ero prima di andare in questo ritiro. Me ne accorgo ad esempio dal fatto di avere appunto un umore migliore, di avere la capacità di lasciarmi scivolare meglio le cose che accadono quotidianamente, che a tutti accadono e anche di affrontare le difficoltà in maniera proprio più consapevole, più capace, se vogliamo. Se volete ovviamente fare un'esperienza di ritiro spirituale, vi consiglio di informarvi bene sulle possibilità che esistono nel territorio, sono andata nel Lazio, quindi non mi sono fermata al territorio del Piemonte, proprio perché ricerchiamo un'esperienza particolare, ma potete veramente trovare qualsiasi tipo di offerta. Vi consiglio di veramente fare un'esperienza che sia esclusivamente di tipo spirituale e quindi di non concedervi invece la classica, ad esempio noi stessi come insegnanti facciamo quelli che possono essere i full immersion dedicati allo yoga, che vanno benissimo, ma che spesso non portano al medesimo risultato. Quindi qualunque sia la vostra religione, potete scegliere un ritiro religioso, un ritiro laico, fate insomma la vostra scelta sulla base delle vostre inclinazioni, ma veramente vi consiglio di farlo, perché vi concederà degli strumenti che prima non avevate e soprattutto scoprirete delle cose di voi stessi, la vostra forza, la vostra capacità, la vostra anche apertura nei confronti degli altri, nella vostra possibilità di amare che non pensavate di avere. Quindi se avete ovviamente delle domande relative appunto al ritiro, alle possibilità di effettuare questi ritiri, chiedetemi quello che volete, potete farlo appunto pubblicamente, attraverso un messaggio privato, non ci sono problemi, e se volete appunto sapere qualcosa in più, oltre a fare delle ricerche, sperimentate con la vostra esperienza. Per il momento io vi ringrazio, vi rimando al prossimo video e vi auguro una buona giornata e ciao a tutti!